Una domenica mattina da protagonisti, gli studenti del liceo statale Vittorio De Capraris di Atripalda infatti sono stati impegnati nell'accogliere genitori e ragazzi e presentare loro l'offerta formativa arricchita anche da progetti, laboratori e corsi per una formazione e un'istruzione di qualità. Soddisfatto per l'impegno profuso dagli studenti nei due appuntamenti degli Open Day il dirigente scolastico del liceo statale Vittorio De Capraris. La nostra è un'offerta molto ampia, sicuramente già è stato spiegato in innumerevoli occasioni. Nasce il De Capraris come un liceo scientifico ma negli anni ha accumulato un altro tipo di offerta formativa che è legata alle scienze applicate dove abbiamo un forte numero di iscritti e il liceo linguistico. Negli Open Day i protagonisti sono proprio gli studenti del De Capraris, sono loro che raccontano ad altri ragazzi che cos'è questo istituto? L'entusiasmo che mettono i ragazzi nell'illustrare ai loro, non dico coetanei, ma come dire, adolescenti più giovani l'offerta formativa della scuola dimostra come questi stessi ragazzi abbiano vissuto e stiano vivendo bene il loro percorso formativo e credo che sia la migliore carta di presentazione della nostra scuola. Sono tre licei e quindi danno una formazione di base molto importante, molto seria e che consente di poter affrontare qualsiasi percorso successivo e questo sicuramente dà il segno del valore della formazione del De Capraris. Offerta formativa che poi viene anche arricchita da tanti progetti, da laboratori, da aule anche virtuali, abbiamo visto ad esempio l'aula virtuale del latino, quindi va ad arricchire proprio il curriculum di ogni studente che decide poi il percorso. Questi ragazzi frequentano con grande interesse queste attività pomeridiane che sicuramente arricchiscono il curriculum degli stessi.